In piazza Cairoli a Messina ha avuto luogo ieri la cerimonia di intitolazione della caserma dei carabinieri della stazione di Messina Arcivescovado al maresciallo ordinario Francesco Bonanno, decorato di medaglia d'argento al valor militare alla memoria. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante interregionale carabinieri Culquaber, il generale di corpo d'armata Giovanni Truglio, come più alta carica militare e autorità di vertice dell'arma dei carabinieri, accompagnato dal comandante della legione Sicilia, il generale di divisione Giuseppe Spina, nonché dal prefetto Cosima di Stani, dal sindaco metropolitano Federico Basile e dalle altre autorità civili, militari e religiose della provincia. All'importante evento erano presenti la figlia, come madrina della cerimonia, nonché la moglie del militare a cui è stata intitolata la caserma, il maresciallo ordinario Francesco Bonanno, arruolatosi nell'arma nel 1953 e caduto in servizio il 17 luglio 1974 all'età di 40 anni, quando ricopriva l'incarico di comandante della stazione di Santo Stefano Medio, durante un conflitto a fuoco con un pregiudicato avvenuto nella frazione messinese di Milie San Pietro. Nel corso della cerimonia è stato schierato un reparto d'onore, composto dalla fanfara del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, da un picchetto d'onore dei carabinieri in grande uniforme speciale, con la tradizionale lucerna con pernacchio e da un plotone di comandanti di stazione, essenziale presidio dell'arma. Tra le fasi solenni che hanno scandito la cerimonia di particolare significato è stato il momento in cui il sindaco di Messina, Federico Basile, ha donato alla stazione dei carabinieri la bandiera nazionale, che dopo la benedizione impartita da Don Rosario Sibilia, cappellano militare dei carabinieri della Sicilia orientale, è stata consegnata al comandante della stazione, il luogotenente Gaetano Ilacqua, che l'ha issata durante la cerimonia dell'alzabandiera. A seguire è stata quindi scoperta la targa in onore del maresciallo Buonanno, dalla figlia del militare decorato, accompagnata dalle autorità dell'arma dal prefetto di Stani e dal sindaco. È stata quindi data lettura della motivazione con cui è stata concessa l'onorificenza incisa sulla targa commemorativa. Truglio e il comandante provinciale dei carabinieri Marco Carletti nel corso dei loro interventi hanno evidenziato sia la figura di Buonanno che l'importanza delle stazioni dei carabinieri a presidio della sicurezza, in particolare delle grandi città come Messina. Grazie a tutti.